Stanotte, verso le 4-5, è avvenuto un temporale forte, ma neanche fortissimo. Dato che non c'era più vegetazione nella montagna, l'acqua si è portata dietro tutta la terra della montagna e ha distrutto le varie case, ha riempito di più di un metro di terra i sentieri. E tutto questo, noi viviamo qui da tanti anni e abbiamo avuto temporali molto peggiori. E chiaramente tutto questo è successo a causa dell'incendio. Ci sono 20-30 ragazzi che stanno tutti lavorando, tutti insieme, nessuno si lamenta e tutti si ricordo di fare il meglio possibile, insomma. Ci sono qui per aiutare, perché oggi c'è un enorme oraggio. Per 5 ore del mattino, 5 ore e mezza. Ci sono tutte le freddo in casa, quindi c'è un po' di più di giorni. 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 C'è un po' di più di giorni.